gentili telespettatori buona giornata una proposta di matteo salvini leader della lega sulla scuola dice così in una intervista proprio ieri quanto alla scuola io rimpiango il grembiule e vieterei l'uso del cellulare fino alla terza media in classe e aggiunge si parla di obblighi a sproposito ma ora intruderrei alcune norme di buonsenso l'altra presa di posizione salvini è sulla prevenzione del bullismo insomma diciamo che il il grembiule e il cellulare vietato fino alla terza media secondo me sarebbe corretto insomma se no immaginatevi tutti sti ragazzi con il cellulare nascosto dietro i libri per giocare per guardare facebook diventerebbe una cosa incredibile ma anche per copiare comunque i genitori hanno il numero della scuola se succede qualcosa possono chiamare la scuola e dire devo parlare con mio figlio è successo questo non si può dire che adesso per il ragazzo di dieci anni che a scuola il cellulare è fondamentale perché quando io ero a scuola non esisteva il cellulare e pertanto non poteva essere fondamentale quindi il cellulare vietato fino alla terza media secondo me sarebbe anche corretto ma dovrebbe essere vietato anche alle superiori non fino alla terza media anche alle superiori insomma quando c'è una classe il cellulare non si utilizza e il grembiule a scuola voi sapete cosa serviva il grembiule a scuola per rendere tutti uguali ma tutti uguali cosa vuol dire vuol dire che c'è la famiglia ricca che manda il bambino a scuola con tutti i vestiti firmati e c'è quello che non se lo può permettere che lo manda con sempre la stessa maglietta o i stessi pantaloni e allora il grembiule serviva per evitare che ci fossero delle distinzioni tra famiglie tra status economico delle famiglie il grembiule serviva a quello io quando ho fatto le elementari c'era il grembiule del maschietto il grembiule da femminuccia ah già oggi queste distinzioni non si possono fare più ci vuole un grembiule che sia uguale per tutti perché parlare di grembiule così ecco io ricordo era una sorta di giacchetta blu che si metteva che si metteva adesso anche mio figlio va in una scuola privata e ha il giorno che c'è ginnastica devono andare tutti con la stessa tuta il giorno che c'è la classe normale ha una maglietta che hanno tutti uguale un pantalone che hanno tutti uguale un paio di scarpe sono tutti vestiti uguali e questo non è che serve per fare dei piccoli militari ma serve proprio per evitare che ci siano questi bambini ah guarda cosa ho comprato larda questa è costata ecco questo è il il motivo del grembiule quello blu che noi tutti la maggior parte di quelli che ascoltano questo canale che sono persone per il il 60 per cento hanno il 60 per cento degli iscritti a questo canale ha più di 65 anni quindi tutti noi siamo stati a scuola con il grembiule quindi se salvini parla di reintroduzione del grembiule vuol dire che adesso non esiste più se no non lo direbbe io non lo so perché non sono più aggiornato sulla scuola dei dei ragazzi piccoli pertanto non lo sapevo che non ci fosse più il grembiule ma se salvini dice che lo rimpiange vuol dire che non c'è non c'è più lo prendiamo per per dato dato di fatto intanto parliamo di un sondaggio di alessandra ghisleri che proprio parla della lega e dice più del 60 per cento dei leghisti è a favore del green pass obbligatorio quindi la presa di posizione della lega contro il green pass andrebbe contro quello che è il sentire degli elettori della lega tra i manifestanti in piazza roma contro il green pass c'era anche qualche parlamentare leghista però l'opinione pubblica sondata da alessandra ghisleri direttrice di euro media research da un risultato differente da quello che magari la lega si aspettava sulla sette ai microfoni del programma in onda spiega più del 60 per cento dell'elettorato leghista e a favore del green pass obbligatorio e delle restrizioni per rimettere in moto l'economia poi la ghisleri svela anche all'interno della lega c'è chi come fedriga e cirio è a favore di queste misure quindi prosegue alla domanda posta da concita de gregorio e david parenzo assistiamo a un'intesa doppia da una parte quelli scesi in piazza dall'altra parte chi a favore delle limitazioni la lega però precisa l'esperta e in buona compagnia succede in tutti gli elettorati la lega forse è un po meno rappresentata ricordiamo che nell'elettorato leghista ci sono tantissime partite iva e negozianti sono loro più di tutti a voler riprendere il lavoro anche con il green pass questo lo dimostrano tutti i sondaggi perché l'unico mezzo che abbiamo non ci sono altre alternative dice la ghisleri punto e basta beh sì se abbiamo visto i dati dei contagi risalire ci sono già cinque regioni candidati a diventare già gialle e poi chissà salire arancioni rosse quello del green pass obbligatorio è un tentativo di evitare di chiudere di nuovo le attività come l'anno scorso pertanto è una prova un tentativo che sta facendo il governo per evitare di chiudere le attività dice le lasciamo aperte col green pass in modo che anche se poi si arriva in zona arancio rossa possiamo continuare a dire al ristorante ci puoi andare con il green pass forse vedremo poi se non cambiano idea quindi se l'intento effettivo del green pass obbligatorio è quello di non chiudere il locale ma lasciarlo aperto con questo documento secondo me va bene se però poi si dice ah no se la regione diventa rossa anche col green pass non puoi andare al ristorante allora mi chiedo che senso aveva introdurlo obbligatorio se poi mi chiudi lo stesso il ristorante se lo introducono obbligatorio significa che poi il ristorante non chiude mai anche se siamo in zona nera nero nero ancora più scuro a questo punto se mi metti questo documento come lascia passare dovrebbe valere sempre ma vedremo visto che sono tutte cose sperimentali qui cambiano idea ogni ogni settimana grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci e grazie